Facendo tutta l'operazione delle travature, quindi la posa del materiale pesante nella notte, creeremo disagio minimo. Lavoro notturno intenso per evitare disagi durante il giorno. E' questa la strategia dell'amministrazione comunale di Marostica, che dalle 21 di lunedì 6 maggio sospenderà per 10 ore la circolazione nella strada provinciale in direzione Ballonara per la sistemazione del ponte Maggiore Morello. Si è voluto fare tutto quanto in una notte perché la sostituzione posa delle travi durante il giorno avrebbe comunque comportato la chiusura parziale in modo più ampio di quella che è già la riduzione della carreggiata stradale, creando sicuramente un ricordo maggiore e delle code a tutti i cittadini e anche un aumento nel tempo di percorrenza. Una deviazione del traffico quindi di sole poche ore, una scelta di ridurre i tempi del cantiere e quella del comune di Marostica in collaborazione con Viabilità Vicenza e la ditta appaltatrice per limitare i disagi del traffico diurno, soprattutto in vista di un calendario ricco di grandi eventi per tutto il territorio, dalla donata degli Alpini fino al Giro d'Italia. Comporterà sicuramente un aumento di fatti quelli che sono i costi per quanto riguarda l'amministrazione, però garantiremo sicuramente una migliore qualità a tutti i nostri cittadini, oltre che ai pendolari che già utilizzano la strada, a turisti e studenti e naturalmente a tutti quelli che interessano in zona che per motivi lavorativi devono passare e in questo momento fare il semaforo a senso unico alternato.